RadioBari.com, persone speciali su Radio Bari. È la nostra persona speciale di questa mattina Antonio Martino, buongiorno Antonio, benvenuto. Buongiorno a tutti. Allora l'ho preannunciato, oggi avremmo parlato di musica, avremmo parlato della buona musica e di un concerto che si terrà proprio questa settimana, stiamo parlando di... Faremo il concerto di Alberto Parmigiani il 23 ottobre al Teatro Abeliano per presentare il disco che è uscito per l'etichetta Ama Records che si intitola Undershimmery Grace, quindi presenteremo questo lavoro discografico al Teatro Abeliano tra un paio di giorni. Ovviamente lui non è potuto essere qui questa mattina perché starà impegnato in i miei giri. Lui risiede a Roma e un paio dei musicisti arrivano dalla Finlandia proprio venerdì mattina quindi li passa a prendere dall'aeroporto e vengono a Bari. Perfetto, quindi sarà a carico. Il concerto si terrà? Al Teatro Abeliano alle ore 21.30, venerdì 23 ottobre. Quindi questo venerdì non potete assolutamente perdervelo, però visto che non c'è lui non possiamo chiacchierare con lui. Antonio facciamo un po', insomma fai le sue versi, parlaci un po' di lui. Alberto è un musicista pugliese, anti-barese, nella fattispecie è un chitarrista con una grande formazione, ha studiato negli Stati Uniti per molti anni presso la Mann School of Music of New York dove ha avuto tra i professori Pat Metini, John Sconfield, quindi ha una grandissima preparazione tecnica ed è un raffinato e talentuoso musicista. E la sua musica? Parlaci un po' della sua musica. La sua musica sicuramente affonda tutte le radici della tradizione del linguaggio jazzistico americano. Però la cosa bella sua è che la sua sensibilità riesce poi a trasformare questo linguaggio in una grande contemporaneità, proprio di quella musica. Quindi non è proprio un jazz mainstream, ma è un jazz molto influenzato da tutte le sonorità contemporanee, un po' dell'hip hop, dell'R&B. Insomma potremmo un po' fare un viaggio, ecco, in tutte le forme di musica che... È proprio la caratteristica del suo linguaggio e inoltre è accompagnato veramente da grandissimi musicisti che vorrei nominare. Esiste, c'è un quartetto, insomma, è un quintetto. C'è Gaetano Partipilo, che è un altro musicista pugliese. Non ha bisogno di molte presentazioni, Gaetano. Poi c'è Enrico Morello alla batteria, Enrico Zanisi al pianoforte e Francesco Ponticelli al contrabbasso, che sono invece tutti i musicisti romani. Senti, qual è stato, diciamo, il percorso di Alberto, la voglia di diventare, insomma, musicista a questo album, a questa produzione? Beh, insomma, lui aveva già prodotto altra musica in passato. Poi noi siamo amici da tanto tempo, quindi io ho un'etichetta discografica, era proprio inevitabile che un giorno o l'altro ci dovessimo incontrare e fare un lavoro insieme. Era destino, come si vuol dire, come nelle migliori storie, storie d'amore, no? Poi ci lega a un'amicizia molto, molto antica, ancora prima della musica. Senti, qual è il quid in più di Alberto? Al di là dell'amicizia, insomma, voglio dire, per chi ha in mano un'etichetta discografica che è importante, che il prodotto... Il quid in più è senz'altro la sua natura pacifica, è una persona molto generosa, molto buona, di grandissima pazienza, senza ego, che nell'ambito dei musicisti è un problema con il quale ti devi scontrare. È abbastanza difficile... Essendo un leader, cioè avendo le idee molto chiare, la sua, diciamo, leadership non va mai sopra gli altri musicisti, quindi riesce a creare un equilibrio e un suono di gruppo che è veramente una realtà di questi tempi. Invece, parlando dell'Ama Records, è un'etichetta discografica che punta molto su generi musicali oppure sulla qualità della musica? No, no, entrambi, diciamo, fondamentalmente l'Ama Records cerca di produrre musica che è jazz o che prende spunto dal jazz, però abbiamo fatto anche dei prodotti che hanno un respiro più, diciamo, più da club, più da ballo, però il jazz resta comunque la... La colonna, no? Sì, che vuole eseguire, certo. Avrai ascoltato, insomma, tanta musica in questi anni. Com'è cambiato il panorama jazzistico, perlomeno locale? Beh, Bari ha sempre dato tantissimo da questo punto di vista. Ci sono sempre state organizzazioni che hanno promosso questo genere di musica, a partire dal Fezz, oggi ci sono i Black Vibration che pure portano avanti un discorso di musica afroamericana, quindi Bari ha sempre dato tantissimo in questo senso, stimolando tanti musicisti, voglio dire, tantissimi musicisti importanti come Gianluca Petrella, lo stesso Alberto Parmeggiani, Paolo Achenza, ci sono tantissimi musicisti, Pippo Lombardo che fa un bellissimo lavoro con i Camera Soul, erano tutti ragazzi appassionati che tanti anni fa si sono messi insieme, sono poi riusciti a portare avanti un discorso artistico assolutamente personale e interessante. Dove andremo a finire, secondo te? Ci saranno altre evoluzioni? Sicuramente sì, non voglio sapere dove andremo a finire, percorriamo questa strada e vediamo dove ci porta. Allora, nel frattempo ricordiamo l'appuntamento per questo venerdì? Venerdì sera, 23 ottobre, ore 21 e 30 al Teatro Abeliano, potete ascoltare Alberto Parmeggiani qui in tetto. Ovviamente io lo ricorderò ai nostri telespettatori nei prossimi giorni, nel nostro calendario di eventi, Antonio questa è una promessa che ti faccio, in modo tale che non se ne possano dimenticare. Come poter invece partecipare al concerto? C'è bisogno di prenotare il posto, il botteghino? No, i biglietti saranno in vendita al botteghino, al momento ci sono delle prevendite che sono il negozio di dischi Centro Musica, in Corso Vittorio Emanuele, il Tabli Caffè e poi l'Ama Records, per chi volesse, diciamo, acquistarli proprio da noi. Un'ultima cosa, come poter essere sempre informati su Ama Records o anche su Alberto Parmeggiani? Possono visitare il sito www.amaedizioni.it o la nostra pagina Ama Records su Facebook. Perfetto, abbiamo detto, credo, tutto. Proprio tutto. Siamo stati perfetti, meno male. Grazie mille ad Antonio Martino, io nel frattempo restituisco la linea alla regia di Telebari ringraziando Federico Semplice, ma io e il buon Paolo Gentile continuiamo su Radio Bari, 88.8 www.radiobari.net, tra pochissimo, grazie ancora. Grazie a voi.